Non essere così abilita. Abbiamo fatto la cosa giusta. Prima o poi questi ragazzi devono lasciare il nido e spiccare il volo da soli. C'è qualcosa che mi devi dire? C'è qualcosa che tu mi devi dire? Dai, non facciamo giochini. Cosa sai? So che mi ha detto che fa la prostituta. E che tu l'hai scoperto. E mi ha chiesto di indovinare come hai fatto a scoprirlo. Cosa ha detto? Hai intenzione di mentirmi, vero? Allora è davvero così facile prendermi in giro. No. Stai attento però. Perché vedi, questo è un momento molto importante della tua vita, Malcolm. Avanti, di qualcosa! Joan. Claire è una ragazza molto confusa in questo momento. È molto inquieta, molto disturbata. E direbbe qualunque cosa... Sai, mi sembra che tu abbia paura. Ha Ilaria molto impaurita. Io non ho paura, Joan. Stavo solo cercando di spiegare... La verità. Questa volta voglio la verità, capito? Va bene, è vero. L'ho scoperto. E come hai fatto a scoprirlo? Ma che diavolo è successo fra voi due? L'hai vista battere per strada? O magari in un albergo? Oh mio Dio. E' vero. E' vero. E' vero.